Analisi volumetrica, come posso evitare di andare a utilizzare strumenti di analisi o altre piattaforme esterne e mantenere tutto su TradingView? Questo è quello che mi sono chiesto perché siccome sono una persona abbastanza pigra e immagino che anche tu lo sia, cerchi sempre di semplificare al meglio quelle che sono le cose per avere il massimo dell'efficacia, ho ritrovato quello che è effettivamente uno strumento che ci può aiutare per semplificarci la vita, senza andare ad appellarci a quelle che possono essere strumenti aggiuntivi su piattaforme e quelle che potrebbero magari essere volsici, che ovviamente hanno la sua efficacia se interpretate correttamente, però ovviamente dietro ci vuole uno studio e molto più elevato rispetto a quello che potrebbe essere semplicemente l'utilizzo e l'ausilio di TradingView. Per questo motivo in questo video andremo a trattare quello che è l'utilizzo dello strumento che si chiama profilo volume a intervallo fisso. Questo strumento è molto semplice, si può andare a tracciare come quello che potrebbe essere un fibonacci dal minimo al massimo dell'impulso e invece di andare a utilizzare su quelle che sono le zone delle value area, come andremo a vedere anche nel video, noi lo utilizzeremo principalmente per andare a trovare quelli che sono i vuoti all'interno del mercato, in modo da aumentare e dare un grado di oggettività ancora più elevato, in modo da avere quello che è il nostro stile di Trading, portarlo a livello di consapevolezza ancora più alto, senza andare a trovare quelle che sono le inefficienze di mercato e dire ma sai, secondo me qua potrebbe esserci inefficienza, ma è realmente così? Dato che la volumetrica è un tipo di analisi che ci può aumentare l'oggettività a livelli estremi e toglie quella che è la parte soggettiva, perché diciamocelo chiaro, andare a mercato e vedere tramite quelli che sono i volumi, ovviamente con Trading View non si vede oggettivamente al 100%, però possiamo farci aiutare con questa cosa qui, ma andando a vedere a mercato, ok, il prezzo mi mostra questa determinata cosa, perfetto, è oggettiva oppure no? La mia valutazione è basata su un secondo me oppure è effettivamente basata su, guarda, ho piazzato lo strumento e questo è effettivamente quello che deve essere, è l'oggettività in sé per sé, per questo noi vogliamo utilizzare e aiutarci con questi strumenti per renderla il più facile possibile. Questa è la parola chiave, semplificarci la vita senza andare a utilizzare troppe cose e per aumentare la nostra consapevolezza in modo che se sappiamo che utilizzando questo strumento conosciamo quella che è la nostra zona di interesse, molto più semplicemente poi potremo andare a valutare e mettere insieme quelli che sono altri metodi e altri concetti che utilizziamo durante quella che è la nostra operatività. Infatti questo si può abbinare, non è che va a sostituire, certo si può semplificare di molto come vedrai anche nel video, però non va a sostituire quelli che magari sono altri concetti, no, semplicemente è una conferma in più e uno strumento come tale serve per aiutarci e non indurci a vedere solo una determinata cosa. Dentro il video vedremo tutto come andarlo a applicare al meglio in maniera molto molto semplice. Bene, come ho accennato anche su quello che è l'ebook che ho fatto uscire da poco, ho introdotto quello che è un argomento abbastanza interessante che mi sono ritrovato ad utilizzare da un po' di mesi a questa parte e questo strumento qui si tratta di questo che lo possiamo andare a trovare sugli strumenti profilo volume di intervallo fisso. Quindi andiamo a vedere molto semplicemente come utilizzarlo, come implementarlo all'interno di quella che è la nostra strategia e di quali sono i benefici che ci può dare effettivamente una volta applicato. Molto semplicemente questo profilo volume di intervallo fisso è uno strumento che ci indica quelli che sono i punti, o meglio le aree, dove ci sono state le migliori e le maggiori contrattazioni. Ora, noi lo possiamo andare a piazzare con un semplice Fibonacci, quindi dal minimo al massimo, o dal massimo al minimo di quello che è il nostro impulso. Come in questo caso, ad esempio, vediamo che il prezzo, com'è che facciamo a definire magari quello che potrebbe essere stato il nostro punto di interesse, da dove è partito il tutto? Magari possiamo aiutarci con quella che è la, magari, questa liquidità che ci ha formato il mercato da qua sotto, questo piccolo sbilanciamento e la partenza rialzista. Come puoi vedere, qui dentro abbiamo avuto la formazione di tanta, tanta, tanta liquidità dinamica, che il mercato, ovviamente, ha sostenuto e ha portato a rialzo, però sappiamo bene che, quando si presentano situazioni come queste, ovviamente, le inefficienze, i vuoti trovati qui dentro, ovviamente faranno da calamita, perché, ovviamente, vuoti di questo tipo, noi, com'è che possiamo anche andare a vederli da un punto di vista, il più oggettivo possibile, perché uno può dire, ok, ho trovato l'imbalance, però sono sicuro che sia l'imbalance corretto, quello che può attirare il prezzo per ritornare su quella zona, e quindi, noi, per rispondere a questa domanda qua, ci aiutiamo con gli strumenti che 3DinView ci mette a disposizione. Quindi, andando a prendere il nostro profilo volume ad intervallo fisso, lo possiamo andare a tracciare dal minimo a quello che è il massimo dell'impulso. Detto questo, noi cos'è che facciamo? Cos'è che dobbiamo andare a visualizzare? Intanto, cosa fondamentale, che mi è stato chiesto anche più volte, questo è come io lo trovo impostato, come me lo sono settato io. Quindi, disposizione bar, numero di righe, numero di barre 1000, su e giù, volume area di valore 50, ok? Qua, ovviamente, tengo attivato quello che è il POC, quindi il nostro punto di controllo, e poi abbiamo quelli che sono i valori, ok? Volume di acquisti, vendite, valore area acquisto, valore area vendite. Perfetto. Detto questo, vedi che abbiamo l'area nera con il blu, e l'area rossa con il verde. Questo è il punto dove ci sono state le maggiori contrattazioni, dove il mercato, ovviamente, con questo POC farà anche da calamita. Quindi noi, questo strumento, possiamo utilizzarlo come zona, dove il mercato potrebbe ritornare su questo livello qui, per andare ad aspettarci su questo punto, una possibile schematica, per ripartire a rialzo, volendo, visto che comunque veniamo da una direzionalità molto rialzista, ok? Detto questo, un primo modo, un primo approccio potrebbe essere questa cosa qua. Però io, invece, preferisco utilizzarlo e andare a visualizzare quelli che sono i vuoti. Cosa significa questi vuoti qua? Si noti su quella che è la nostra zona? Vedi che abbiamo queste aree qua, dove è stato creato maggiore valore. Questo, questo, questo. Però poi abbiamo anche delle aree dove il prezzo ci è andato a lasciare dei vuoti, dove ci sono meno contrattazioni, come ad esempio, se vediamo questo livello qui, possiamo notare come il mercato ci ha lasciato questo buco rispetto a tutte le altre zone. E quindi io preferisco andare a tracciarmi quello che è livello e, fatto questo, me lo vado a trascinare verso il futuro. Questo potrebbe essere la mia zona, quella più estrema, più bassa. Poi abbiamo, ad esempio, anche quest'altro livello, che se vedi, questo livello qua, che abbiamo appena assegnato, indica il nostro punto di imbalance, dove, tra l'altro, qui dentro il mercato ci ha lasciato anche dell'inefficienza. Quindi avrà un certo interesse. E come ho spiegato anche all'interno di quello che l'ebook, dove ovviamente lì, io ti invito a dare un occhio, dove ti lascio il link nella descrizione per andare a spulciare quelli che sono gli argomenti che vado a trattare in modo semplice. Vedi che qui dentro abbiamo una candela che rompe la nostra struttura e qui dentro questo è un fresh imbalance. Quindi quello che è il fresh imbalance, quindi un imbalance dove non c'è mai stata contrattazione, ritorno, possiamo trovare quello che, soprattutto sulla zona di origine, nella value area, dove ci sono state maggiori contrattazioni, questo è un punto ad alta probabilità. Ora, noi utilizzando questo strumento, cos'è che possiamo fare? Possiamo o andare a cercare un'entrata su questo livello qua, mettendo lo stop loss sotto il minimo per semplificare il più possibile quello che è il nostro trade. Quindi, chi usa magari quello che è l'inefficienza, stop loss qua sotto, target e si può andare su quello che è, ad esempio, l'ultimo massimo. Questo è un primo approccio. Ovviamente possiamo aspettarci anche reazioni su questo livello, però se ci facciamo aiutare dallo strumento di Fibonacci per semplificare senza andare a mettere molte cose all'interno e vediamo qui dentro, sappiamo che i nostri livelli più estremi di contrattazione non saranno sul 50% di quello che è l'impulso, ma saremo più propensi ad andare a lavorare da un livello che va dal 78, da 75, 78, a me personalmente piace molto quello che è anche la zona dell'80 per andare fino a quello che è l'ultimo massimo su quello che è, ad esempio, lo zero di Fibonacci. Quindi, vedendo che combaciano quelle che sono le nostre zone di interesse, possiamo andare anche ad aggiungere alcuni aspetti. Ad esempio, questo qua possiamo mettere quella che è liquidità, questo qua possiamo mettere quella che è la nostra ultima dominance, che è anche questo travi tutto dentro quella che è la spiegazione dell'ebook e oltre a questo abbiamo quella che è origine, possiamo segnarci, come ho trattato anche nel video fare una narrativa efficace, che ti lascio sempre il video qua nella descrizione, quella che è l'origine è molto molto importante, fare una narrativa di questo tipo, così almeno le cose possono non prenderci alla sprovvista. Questa è tutta liquidità che abbiamo trovato, quindi segniamoci ancora. Liquidità e qua io personalmente vado a segnare, quello che è un'inefficienza più conferma vuoto. Ok? Così almeno ho una panoramica ben definita di quello che mi posso aspettare. Quindi, andando a mettere insieme i vari puntini, sbilanciamento della liquidità, rottura dell'ultima dominance a rialzo, lasciano inefficienza, creano liquidità, siamo in trend rialzista, anche perché il mercato continua a creare massimi e mini sempre più alti, cosa che faccio? Io semplicemente aspetto e andando a vedere quello che posso combinare, io quello che è questo strumento, posso utilizzarlo sia per quelli che sono i punti di entrata all'interno del mercato, assolutamente efficace, come puoi vedere anche qua andando a direzionalità, oppure posso utilizzarlo anche come punto di take profit, perché mettendo quello che è l'ipotetico caso di una possibile setup, come abbiamo visto anche più volte all'interno del canale, dove troviamo ad esempio liquidità, quella che magari è la nostra candela istituzionale bella piena, aspettiamo che il mercato ci vada a fare quelle che sono varie rotture, ad esempio rottura di questo minimo e anche rottura di questo minimo, possiamo posizionarci ad esempio dopo la rottura, short su questo livello qui, in questo modo, stop loss magari per stare tranquilli su quello che è l'ultimo massimo, molto semplice e andare su quello che è il punto di target dove su quello che potrebbe essere il nostro primo punto di vuoto, in caso noi non vedessimo punti di interesse che potrebbero magari dare particolarmente fastidio alla discesa del prezzo, quindi non considero questo come un punto fastidio, magari posso vedere questo qua, ovviamente se ho una prima zona e una seconda zona, cos'è che faccio? A livello oggettivo dico io esco e prediligo l'uscita su quello che è il primo punto di, dove si va a formare quello che è il vuoto che mi interessa, così almeno posso essere più tranquillo perché se noti anche qui il mercato, cos'è che fa? Dopo la discesa la reazione più importante, dov'è che è la data? La data su quello che è il vuoto, perché abbiamo avuto questo engulfing di induzione, dove il mercato poi comunque ha continuato a ribasso, ha esitato sulla zona di liquidità e poi è andato a pulire il tutto, pulendo tutta la liquidità e chiudendo l'altro vuoto di mercato, cosa ha fatto? Semplicemente se è partito a rialzo, e questo per andare a utilizzare semplicemente quello che è uno strumento molto molto basic, gratuito, che si può ed è sempre disponibile a tutte le persone. Però se noi andiamo a implementare oltre a questo anche altri concetti, non utilizziamo solo il Fibonacci, ma ad esempio andiamo a scavare nel dettaglio e notiamo che ad esempio qui il prezzo ci aveva creato altra liquidità, quindi la liquidità era stata sbilanciata da questa candelina istituzionale, questa candela istituzionale è formata bella piena e quindi noi ci aspettiamo un ritorno fino al 50%, noi possiamo aspettarci quello che è al mercato, un ritorno da l'apertura al 50%, allineata poi con quella che è la nostra zona magari di inefficienza con il vuoto, possiamo dire che magari un punto che a noi ci piace ancora di più e che ci conferma l'entrata su quella che è la zona, è proprio questo, quindi apertura della candela istituzionale che si allinea con quello che è il fresh in balance che rompe la struttura, poco sotto la formazione della liquidità, sappiamo bene che abbiamo una conferma ulteriore e questa consapevolezza qua ci farà rimanere molto più tranquilli a grafico per poi andare a definire anche quelli che magari possono essere i target e utilizzarlo ad esempio soltanto su M1 e questo è per farti semplicemente un esempio. Ora andiamo invece a vedere anche un altro, magari su un altro pair diverso. Ad esempio anche un audio SD visto su 15 minuti per vedere comunque anche un orizzonte temporale diverso e leggermente più alto, cosa è successo? Che qui noi venivamo comunque da un trend rialzista. Bene, avendo la conferma della direzionalità rialzista che il mercato ci stava chiudendo quelle che erano le varie strutture e stava spingendo, che ovviamente a primo import uno può dire ok, come faccio a capire dove sono le inefficienze? Semplificarmi quello che è lavoro? Allora, ok, io sono esperto oppure un minimo di comprensione ce l'ho, identifico ad esempio questo come vuoto all'interno del mercato, quindi questa è una mia zona di interesse e oltre a quello ad esempio posso avere questo livello qua oppure per semplificare quella che è il nostro lavoro e renderlo ancora un po' più oggettivo comunque possiamo fare in questo modo qua, tracciando questo che è lo strumento dal minimo tanto qui abbiamo il vantaggio che questo strumento ha la canna vita integrata quindi basta che lo tracciamo su quello che è il massimo e noi ce l'ho vedremo posizionato fatto questo, vedi che il valore l'ha costruito qua sopra però nel mentre che veniva su, nota come si vede ancora più chiaramente quelli che sono i buchi che ci ha lasciato indietro quindi se ne andiamo a vedere anche qui, vedi che qua proprio non c'è nessuna contrattazione il mercato dà una bella reazione poi abbiamo ad esempio anche quest'altro livello poi abbiamo quest'altro livello però quello che ci interessa a noi maggiormente sarà semplicemente quelli che sono i vuoti dati sulla zona di origine perché come puoi notare qui dentro abbiamo avuto proprio l'origine del movimento ritracciamento per poi spingere il nuovo rialzo e poi anche quest'altro livello qui quindi qua cos'è che possiamo fare? qui dentro possiamo o cercare un'entrata molto semplice con un test della zona allineando quelle che sono le varie strutture allineando quelle che sono i vari concetti perché se vediamo che abbiamo impulso mercato che parte di basso e nel mentre che parte di basso ci va a lasciare ad esempio liquidità su questo livello liquidità come puoi notare su quest'altro livello ovviamente sappiamo che il prezzo ci può dare quella che è una buona conferma per posizionarci long anche qui abbiamo avuto il test della zona abbiamo avuto quella che è una ripartenza rialzista non c'è stata neanche convinzione tra l'altro questo è un altro argomento che porterò su quella che sarà un'altra versione un'altra aggiunta di quello che è il lavoro che sto portando avanti perché ci saranno tante novità tante cose aggiuntive per permettere di avere un grado di consapevolezza ancora più alto e qui dentro notiamo che il prezzo su quella che è la nostra zona in caso uno dovesse andare a posizionarsi su quello che è livello cosa succede che se tu applichi nel modo corretto quelle che sono le zone applichi come si deve quelli che sono i vari concetti e tieni fede a quella che è la strategia anche qui posizionandoti sul punto più estremo stop loss rimane qua dentro mercato che comunque non va a darci quelle che sono le conferme di rialzo perché questo è soltanto un piccolo ritracciamento qui si può andare a prendere quelle che sono anche le notizie a favore volendo e questo penso che possa essere un qualcosa che a tutti noi interessa per andare a sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità perfetto ora in pochi semplici passi sai come utilizzare questo strumento e sono sicuro che applicato nel modo corretto preso le dovute precauzioni preso comunque quelle che sono le istruzioni che ti ho dato e messe all'interno di quello che è il tuo trading journal e continuando ad applicarlo e praticarlo continuamente sono sicuro che potrai avere un grado di consapevolezza ancora più alto ora ti rimane soltanto che continuare a praticare praticare e praticare ovviamente la pratica rende migliori ovviamente non ci rende perfetti perché è impossibile in questo mondo qua essere perfetti però ci renderà sicuramente migliori come sempre io ti invito a seguirmi su quello che è il canale per non perdere tutti quelli che sono i video che arriveranno ti invito a seguirmi sempre su Instagram ti invito a entrare in quello che è il canale Telegram dove ogni mese vado a fare quella che è una chiamata gratuita di formazione, di interazione con me domande, botte e risposte, live analisi e andiamo a vedere tutto quello che riguarda la strategia però puoi avere un approccio direttamente con me oltre a questo ti invito a prestare attenzione al link che ho messo nella descrizione dell'ebook che ho iscritto dove troverai dentro a questo ebook ogni singolo step di quella che è la strategia per applicarla nel modo più semplice possibile avendo un qualcosa di concreto pieno di informazioni e soprattutto pieno di casi studio pratici con i dovuti video per semplificarti quello che è uno stile operativo che a primo impatto può sembrare molto complicato in modo che la tua consapevolezza possa salire ancora di più come sempre io ti ringrazio per la fiducia per continuare a seguirmi e a supportarmi detto questo noi ci vediamo nel prossimo video Bye!